Good morning Juventus. Domani sera giocheremo contro il Sassuolo, fra poche ore vedrete la Juventus B4 proprio di Juventus Sassuolo. Nel frattempo l'Inter si appresta a volare a Riad per fare la Supercoppa italiana ma avendo già rifilato 5 gol al Monza ed essendo di fatto scappato ancora in classifica. E' veramente un tentativo di fuga che la Juve ovviamente deve tamponare. L'immagine iconica della copertina parla chiaro, la lepre con la maglia nerazzurra ovviamente è l'Inter e la zebra che insegue ovviamente che è il nostro animale simbolo siamo noi. E la Juve deve assolutamente non perdere colpi, una partita che sulla carta dovrebbe essere facile ma purtroppo il Sassuolo, lo sappiamo ma ne parlerò più tardi, non è poi così facile da battere. Questo è un campionato dove l'Inter secondo me può avere delle grosse chance di vincerlo perché oltre ad avere un comparto giocatori di primo livello, perché nei vari ruoli, pensate un po' che è stato chiesto al grande barzaglione, De Wohl, il muro, chi è secondo lui uno dei migliori difensori italiani in questo momento, anzi difensori non italiani, chiedo scusa, i migliori italiani ha messo al primo posto Acerbi e poi ha messo subito dopo Bremer. Io non sono d'accordo perché per me Bremer è più forte di Acerbi ma sicuramente Acerbi sta facendo dei campionati all'Inter mostruosi, su questo non ci piove. E' nettamente migliorato rispetto ai tipi del Lazio e anche dove giocava prima. Per cui l'Inter è solida in difesa, è forte a centrocampo, gli attaccanti fanno gol. E' una squadra che se non si inceppa sarà molto molto difficile per la zebra agguantare la lepre. Però, però, come si dice, siamo in ballo, balliamo. Quindi dobbiamo assolutamente approfittare della partita di domani sera, augurandoci di andare a vincere a Lecce, dove ci vincono praticamente tutti, perché poi potenzialmente, vincendo con Sassuolo e con Lecce, la Juventus è virtualmente prima in classifica per lo scontro diretto. Ebbene sì, perché poi ci sarà un'altra partita, in casa con l'Empoli, dove la Juve non dovrebbe avere difficoltà a fare tre punti. L'Inter anche essa farà sicuramente tre punti e quindi ci dovrebbe presentare il 4 febbraio, da qui il video che ho fatto la settimana scorsa, virtualmente avanti di un punto. Perché poi sapete che la partita dell'Inter che deve recuperare ci sarà a metà febbraio. Per cui abbiamo una chance enorme che psicologicamente, ma solo psicologicamente, la Juve può vedere l'Inter dall'alto verso il basso. Per la prima volta quest'anno, ma soprattutto negli ultimi quattro anni. Perché lo ricordo, la Juventus non è mai stata in vetta da sola da quando abbiamo vinto lo scudetto con Sarri e dobbiamo tornare all'estate di fatto, perché così è stato, all'estate del 2020. Siamo nel 2024 e la Juve, che per quattro anni non è prima in classifica, è un evento storico. È un evento storico ovviamente con accezione negativa che deve assolutamente essere finito. Poi la Juve, quando va in testa, ripeto, anche se virtualmente, è una brutta bestia per le avversarie. Mette pressione, anche questa psicologica, alle avversarie e in particolare all'Inter. Poi attenzione perché il Milan sembra abbia trovato la quadra. Dopo molti balbettamenti e smottamenti vari, si sono liberati mentalmente con l'eliminazione della Champions League. Io credo che al Milan non freghi niente dell'Europa League, perché nel calcio moderno contano i torni che ti portano a Pecunia. L'Europa League, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana contano poco o niente, per cui sicuramente il Milan metterà le seconde linee in Europa League o sicuramente non metterà sempre i giocatori più in forma e cercherà assolutamente di arrivare nelle prime quattro. È chiaro che se tu lotti per le prime quattro e quelle che hai davanti, per esempio la Juventus, dovessero balbettare, è un attimo che da seconda Juve ti travi terza e non certo prima. Quindi noi adesso dobbiamo guardare con fiducia e con speranza verso il primo posto, ma con cura, con attenzione e con parsimonia verso il terzo posto intanto, perché noi dobbiamo rimanere, noi dovesse finire la stagione così al secondo posto, dobbiamo soltanto essere contenti, perché abbiamo visto i giocatori crescere, abbiamo visto qualcosina di meglio da parte di Allegri, niente di trascendentale, sia chiaro perché ha speso molto della sua stagione a cercare di non vincere le partite, di non perdere le partite scusate anziché di vincerle, però ripeto, dobbiamo contentarci di quello che passa al Comvento. In questo momento il Comvento passa una buona Juve, una discreta Juve, che domani sera deve confermare quanto io sto dicendo, ma soprattutto una Juventus che non deve assolutamente far scappare la lepre. La zebra, qui parla il naturalista da quando sono nato, la zebra è un animale molto veloce, ma la lepre non ha da meno e a differenza della zebra che va in linea retta, la lepre zigzaga e saltella e non è facile da prendere. Quindi, signori e signori, è ufficialmente aperta la caccia alla lepre, ma non col fucile, caccia nel senso di corsa, perché io abborro la caccia, abborro tutto ciò che è violenza e altre cose del genere. Good morning, Juventus!